ma poi fanno ad averlo già loro probabilmente hanno provato una versione beta ah ok 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 vabbè almeno è scritto le mosse sono scritte in inglese fortunatamente si sono le descrizioni che tanto ce ne frega il giusto dai Mishima style ultimate technique tempest demon god fist what? un po' esagerato come nome sono un po' incredibile sia da da anche meno grazie Baco grazie mille questa è la regia ovviamente quindi va bene la command list parte qui dal 23 vediamo già 1 1 2 questa è la flash che splatta vediamo eccolo qua e allora vediamo un attimo voglio assicurarmi che sia da 10 è da 10 ok dove l'hai letto? il primo colpo ah si scusami il primo colpo nel qui da twitch ha un contatore sotto la barra oh shit l'ho visto adesso c'è il simbolo si c'è il simbolo power up col pugno della Mishima Zaibatsu è il power up ma era ovvio che ci fosse ragazzi ma poi quella trottola si vedeva che era una trottola da power up va bene sempre sempre flash punch combo 1 2 classico questo niente di che vediamo come continua 1 2 2 25 danni a più 4 considerando la considerando la flash da 27 che butta a terra secondo me questa si userà molto poco anche in campo aperto allora praticamente nel il vecchio Yashi faceva 1 2 2 giù cancellava l'ultimo colpo e faceva una specie di faceva una specie di step ok è quello che c'è scritto a destra si è una specie di step niente non era una gran cosa secondo me questa invece è una variante nuova infatti 1 2 2 1 a mezzo tempo cosa vuol dire a mezzo tempo coach vedi questa cosa tra parentesi non devi fare normalmente 2 1 devi farlo con input veloce tipo 1 2 2 1 1 si è bravo esatto ok questa è una roba nuova questa è una roba nuova 1 2 fa questo 2 1 modi cancel e poi ci mette 1 2 ah questa roba nuova vabbè non è garant non è ma non è no ma aspetta 44 danni dopo il 1 2 perché infatti non lo connette come combo ma non è combo è un è un qualcosa che ti funziona se ci reagisci dopo in realtà se li tiri in faccia pure entra cioè nel senso non entra lui entra che li tira in faccia a meno che sicuramente non sia normal hit lì è un altro discorso animazione si di quando faceva back 1 2 1 2 1 2 4 qui questa era vabbè animazione nuova del vecchio 1 2 4 questo se per esempio se reagivi su 1 2 ti beccavi 4 in ch quindi questo probabilmente farà la stessa cosa e ora con l'altra stringa ti verrà più voglia di tirargli in faccia però ci sarà anche la variante che ti ammazza i nomi delle mosse sono incredibili beh sì questo 1 B2 1 storica questa c'era già nei vecchi Tekken 1 B2 2 questa era la questa era la drive su Tekken 7 tra l'altro aggiunta in un secondo momento la drive è quella che ti torna la vita bianca giusto? no no la drive erano i vecchi hit smash però praticamente non essendoci lit te in Tekken 7 quando avevi rage potevi decidere se usare la rage art o utilizzare il rage drive che era una specie di hit smash ah ok e usso lo uno dei due e poi ti spariva la barra del rage con hit smash hanno semplicemente e gli smash sono tipo i drive ma più forti questa cosa comunque è interessante l'ultimo colpo peraltro è medio anche qui c'è il cancel su 1 B2 cosa che prima non esisteva e qua c'è da vedere come entra secondo me è da è da interpretarsi è da interpretarsi come una roba da 10 ah guardate tra l'altro il nome dell'account a naso secondo me vuol dire Bandai Nanko Entertainment Corea cosa coach ripeti no dice guardate il nome dell'account playstation qua sopra a naso mi sa che vuol dire Bandai Nanko Entertainment Corea era una roba era una roba solo da che hanno fatto provare probabilmente a un pubblico iper ristrettissimo si te l'ho detto ma molte volte queste cose per i content creator o comunque i professionisti lo fanno anche perché crea un sacco di hype anche inizialmente su Tekken 8 venne fatto si mi ricordo infatti che il gameplay di Reina nel canale del Pog era esploso si qui mezzo milione qui altra variante solita solita roba per mettervela usata come ender come esitante cioè o post esitante niente di che si schiva e si flotta 2-2 scusatemi cosa cos'è questa cosa è da 11 23 danni più 3 a che cazzo serve da 11 manda più 3 ma probabilmente parata ti manda a meno infinito può essere ma scusate che c'è la flash che che fa 27 danni è da 10 butta a terra che è meglio di un più 3 e splatta a muro non lo so non mi sembra non ne vedo il senso per ora non ne vedo veramente il senso è ancora il torneo coach è alle 7 ma a questo punto non lo so se lo faccio c'è cose più interessanti da vedere qui chiaro vabbè dura 20 minuti penso che anche vedendolo tre volte integralmente no no 20 minuti ci porta via un po' meno di tempo vediamo un po' sì allora questo è un 3 da 15 frame con un secondo colpo anche qui abbiamo la possibilità di cancellare e andare in sidestep tra l'altro un secondo colpo che sta a meno 2 questo qua molto probabilmente vi dirò vedendolo così sarebbe sensato se fosse un 3 safe con un secondo colpo da giocarsi così a modipook la qualità video è al massimo sì sì al massimo al massimo oddio no c'è 4k mettiamo 4k anche se io non ho 4k però e teoricamente dovrebbe migliorare leggermente niente di che sto colpo comunque ragazzi sono 20 da anni niente di che sto parlando lui sì ovviamente vi risparmio il suo audio perché chiaramente non ci si capisce un cazzo ah questo è il nuovo 4 che l'abbiamo visto prima come punish sull'hopkick a vuoto di Yoshimitsu nel trailer al posto di avere il classico vecchio 4k circolare generico gli hanno messo sta cosa che comunque è alta un pochino più veloce ha un grosso effetto di vantaggio abbiamo più 16 qui è un più 16 sicuramente con niente di garantito no abbiamo visto anche sta mossa Filippo si è vista anche sta mossa forse forse non si era vista anche un momento ma si era vista comunque questa non ci sarà niente di garantito potrebbe anche splattare non credo secondo me non splatta questa cosa comunque fondamentalmente nel momento in cui uno ha in mano l'elettrico sono mosse sono mosse poco utili QCF2 diventa chiusura lì ovviamente sì perché è da 17 e quindi però QCF2 sarà anche scoperto Capriola classica niente di niente di nuovo quello di Reina questo è questo è l'uno più due sì però l'abbiamo visto infatti vedete che adesso lo manda lontano non c'è niente di garantito quindi sicuramente col power up avrà il garantito è da capire come funziona la gestione del power up mi sembra molto simile a quella di Lidia secondo me utilizza sfrutta le stance splatta c'è il segnalino verde non ci avevo fatto caso hai ragione è vero c'è anche il segnalino verde sì è vero c'è il segnalino verde sul 4 allora secondo me se le carica con le stance se le carica con le stance e basta fondamentalmente poi magari ci saranno delle mosse che lo portano in stance e quindi se lo carica automaticamente è da vedere 1 più 2 12 quindi va bene sarà comunque uno splat butta a terra col power up avrà anche danni garantiti F2 2 è difficile perché ok da 15 anche qui va bene può cancellare e andare in in step a parte mi viene il dubbio che al posto di fare lo step semplicemente faccia la stance perché io dico lo step perché prima ci faceva lo step però forse semplicemente lo usa per andare in stance allora visto così sì mi sembra abbastanza inutile però c'è da vedere cosa combina in varie situazioni c'è da vedere c'è da vedere ch allora a questo punto voglio vedere se lo step è in realtà non è lo step è la stance ok quindi f21 veloce esce da 13 e 1 più 2 allora questa è una mossa di quelle col mezzotempo con l'ondina molto spesso la cosa che è segnata non è in questi casi spesso non viene considerata mod di motion è da vedere se è da 13 fosse da 13 sarebbe una bella punish da 13 però non lo so non lo so ragazzi perché in alcuni guardate tipo quella di rena perde 3 frame segnata da 11 ma in realtà da 14 potrebbe essere la stessa cosa f3 eh ok non butta di base non butta infatti più a terra non butta più a terra abbiamo abbiamo più 9 normalità si ok confermiamo non c'è più la schivata che c'era su Tekken 7 l'abbiamo visto nel trailer che andava in stand quindi la schivata è diventata la stance semplicemente la schivata quella tra le mosse comunque vabbè anche mollandolo così non più 9 niente di che ma io non capisco ma perché non fanno anche le prove con le mosse alternate stanno andando di command list puro senza guardare le varianti del tipo faccio mossa giù come è indicato nell'opzione che è la cosa più interessante peraltro lo fa anche da F4 quindi va in VGK vediamo perché c'è le VGF qui abbiamo il VGK lo fa anche dopo F4 di andare in stands ma io scusate avevo messo pausa per sbaglio F4 potenza ragazzi i cancel sono una proprietà che ha su tantissime mosse vado col basso no ma in questo caso non è proprio un cancel è mossa e poi stands i cancel ce l'aveva solo su 1,2,2 verrai molto probabilmente la stands hanno già fatto vedere qual è l'abbiamo vista nel trailer non la stanno facendo vedere qui stanno solo seguendo le istruzioni in prima riga qui non guardano le varianti un momento un momento eccolo qua qui è la testata infatti vediamo 4 più 14 più 14 che poi gli abbiamo visto fare un garantito comunque ipotizzavo nel trailer fosse da 13 o 14 è da 12 è da 12 sarebbe buffo se per esempio andando in power up potenziasse 1 più 2 rimanendo da 12 la testata venisse ancora più potenziata ma diventasse più lenta non è da escludere totalmente come cosa thunder's god kamae quindi questa non è questa non è infatti non ha le stesse proprietà della normale stance questa è la vecchia stance auto punch perry infatti va l'attiva con f3 più 4 non vedo l'iconcina però del power up salire quindi probabilmente non è così semplice di f1 controlliamo si è rimasto da 13 per bene ed è da 13 df1 è da 13 signori abbiamo che veloce abbiamo il df1 1 da 13 e il df1 2 che alza c'è da vedere c'è da vedere se alza eccolo qua e infatti non alza normale alza solo col power up l'altro senza power up è anche un po' una merda fa anche un pochino schifo secondo me power up ragazzi secondo me power up non dipende dal counter it però più 3 manda pure lontano e fondamentalmente non è nemmeno un granché senza power up ah cos'è questa cosa questo deve essere un hold df1 2 hold cambia totalmente la mossa come df1 2 hold true muso tecken si caricato sicuramente fa sta roba quindi probabilmente qui ci sarà il giochino stile 3 1 più 2 di fang ragazzi secondo me df1 2 che ti colpisce secco df1 2 caricato che ci passi in mezzo e lo schivi df1 2 caricato a metà che ti incula mi piace molto diretto coach mi piace bisogna essere onesti nella vita no cos'è questa cosa ci aveva al blue spark sembrava avesse fatto la versione più figa però a 28 frame anziché 38 timing particolare just frame particolare che cazzo è questa roba è monte intanto a posto perché lo voglio lo voglio provare anch'io quindi agile ok va bene va bene te lo traduco con la barra rossa il momento che il caricamento è completato te lo dico in inglese per come lo traduce google water mid or guard recovery gouge is full guard damage is present defensive action impression effect is present ho capito un cazzo che cazzo vuol dire proviamo in italiano assurdo eh non l'abbiamo visto luca per ora ma secondo me lo mettono troppo iconico per non metterlo dai nel momento in cui la presa viene completata suppongo il caricamento in realtà il recupero è possibile utilizzando acqua mid o guardia ottimo l'indicatore ha il danno di salute guardia effetto di ispirazione dell'azione difensiva più basso giusto ho capito nuove meccaniche cazzo abbiamo l'intelligenza artificiale che mi genera le immagini in due secondi ma non abbiamo ancora un modo di tradurre in maniera efficace con ste robe boh vabbè no eh no non sa da fa niente forse ce lo capivamo meglio in coreano dici ma a questo punto si non lo so ma qualcuno di forte in coreano cioè fermi tutti non è che quello che abbiamo visto prima come il twin piston in realtà era questa mossa che è molto simile solo che la fa ad arti invertiti questo è df2 1 non è df1 2 non è che prima ci siamo confusi interessante che tra l'altro è da 13 e l'animazione e l'animazione è molto simile al vecchio twin piston che però in questo caso butta in aria senza fare che anche magari è questa magari è questa la mossa che tira su e non è df1 2 magari è questa la mossa che tira su dovrei rivedere il trailer dovrei rivedere il trailer non so se era questo il df1 2 che lanciavano interessante però qui non c'è niente vedete non ci sono indicazioni extra non lo so se era questa vabbè se c'è un'indicazione extra che dice tipo col power up fa 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 girando le scintille dal sedere tipo cose così df3 1 2 vecchia stringa da qui partiva la diashit è stato un piacere usare reina questi mesi ma come scrive luca in chat ora andrà in pensione 1 2 1 ah guardate qui tra l'altro questa cosa ve lo dico io cosa vuol dire vuol dire fondamentalmente esegui input perfetto per potenziare ah ci devi mettere il qcf se ci metti il qcf1 fai qualche danno in più si si se dopo da un f3 1 più 2 ci metti il qcf2 il qcf1 fai più danno allora c'è l'1 è praticamente la modalità è la modalità ragazzi no non ti vuoi sbattere usi questa se ti vuoi sbattere ti premiano con qualche danno molto stile reina questo non lo vedere col qcf l'hanno già fatto vedere no mi sa che non lo fanno no non stanno facendo vedere le cose nel riquadro basso stanno facendo vedere solo la roba in command list questa cosa l'abbiamo vista usata come a muro l'abbiamo vista usata in juggle quindi non penso non penso comunque sarà una roba che si userà tanto così magari essendo tre colpi un po' un po' sì per giocare sull'esitazione ma secondo me verrà usata solo in juggle e poi con l'hitbox è veramente una scemenza a fare il qcf df4 1 più 2 quindi ci starebbe a metterlo a muro e basta 13 frame 33 danni beh questo e questo l'abbiamo visto prima tra l'altro df4 1 più 2 very 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 not bad very 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 not bad oh no oh no oh no siamo salvi calma d1 questo vabbè vecchio d1 anche questo originario di 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 paul da tecken 1 credo che abbia semplicemente la meccanica che rimane crouch fa d1 rimane crouch no secondo me non è stance battery infatti la 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 stance quella quella wind god cosa c'era scritta secondo me rimane acquacciato rimane crouch d12 eccolo questo qui poi c'è d12 avanti fa thunder god che è la seconda stance non è la prima che abbiamo visto è la stance quella che si fa da f3 più 4 però la fa solo da d12 che vedi luca luca in chat è impazzito ogni 3x2 troppa una bomba adesso wind god pisa fist assurdo potente il nuovo più potente in chat oggi luca parole d3 d3 tra l'altro qui c'è un effetto aggiuntivo che secondo me vuol dire danno imparata secondo me solito d3 per il resto prenderà a terra butta a terra poi va bene abbiamo visto degli effetti aggiuntivi nel trailer d1 più 2 e qui c'è il vgk che abbiamo visto all'inizio che pensavamo fosse lo step questo è il vgk eccola qua fighissima tra l'altro tra l'altro ste robe qua mi ricordano un po' voce in pace queste cose bianche che appaiono ecco la la super mega iper imparabile questa è l'imparabile storica bello questa è l'imparabile storica ci si faceva le giagole in Tekken Tag 1 pensate si uno alzava switchavi e yashi entrava l'imparabile e entrava garantito questa è tipo una giagole tipica di Tekken Tag 1 db2 23 frame sempre è un botto più 6 aspetta ma questo è Vasin questo è Vasino si ok allora è 23 frame sempre parzialmente visibile bisogna bisogna vedere poi con il livello di caos che c'è sullo schermo la mossa teoricamente è visibile però però ti devi impegnare db3 questo è nuovo perché prima con db3 aveva un bassetto ai crash però molto del cazzo perché poi era anche molto scoperto non faceva un cazzo non aveva vantaggio qui non fa un cazzo non ha un cazzo di vantaggio lo stesso però almeno secondo me rimanendo in piedi poi non è nemmeno scoperto da 16 da 16 niente bassetto da poche secondo me si qual è soddisfacente come bassetto b1 4 allora quindi b1 medio da 14 con 4 dopo buttatella un ottimo giocattera che ha più 7 un ottimo gioco a terra questo sarà un oki da 50 e 50 praticamente pensiando la posizione più 7 così un bassetto tipo d1 qualcosa che schiaccia 36 danni c'è da vedere come se la cava un blocco questa mossa potrebbe essere una roba da attirare un po' così sarà punish magari magari starà assolta meno 12 13 14 forse magari it confi back 2 questo l'abbiamo fatto diventare lo wall bounce su Tekken 7 qui ritorna un po' alle origini questa cosa qua mi dà l'idea dei danni imparata sempre più 7 in normal hit potrebbe fare juggle in ch lo può caricare caricato tra l'altro può andare in vgk farà un monte di danno imparata questa cosa questa stringa qui vuol dire probabilmente danno imparata questa qui probabilmente vuol dire può tenere caricato e qui solo se caricato solo se caricato solo versione caricata può andare in vgk la stanza è nuova coach questa è nuova l'altra stanza è un riciclo di una cosa che c'era ma comunque è un'interpretazione completamente nuova ok quindi dai un po' di novità ci sono sostanziose si 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 no ma è normale non potevi riproporre il personaggio come era prima banalmente perché sarebbe stato scarso no no non era scarso era forte il problema è che ora è pieno di roba ancora più forte cioè tutti sono molto più forti sta diventando un gacha allora se te prendessi un qualsiasi personaggio di Tekken 7 guarda giusto giusto Akuma forse se la potrebbe giusto Akuma forse se la potrebbe giocare con questi ma sicuramente non facilmente te prendessi un qualsiasi personaggio lo metti qui su Tekken 8 prende delle sberle da fare schifo non si muove tipo back 2 io non capisco però perché sto back 2 basta mettere back dash di set diventa buono sì in effetti quello sì allora che cazzo vorrà dire questa cosa te lo traduco in tempo grazie grazie mille allora vediamo cosa dice il signor il signor Google allora nel momento in cui Homed viene completata il recupero è possibile quando il colpo o la guardia si ripristinano guard Daisy è presente l'effetto Shark Wand canto Yoto Champions League no è impossibile veramente coach non si capisce niente Yoto Hoen Sinno Unima è detto canto io sono partito no non si capisce niente c'è traduce proprio ad katsum decanis vedete sono anche bravo sul latino però il coreano no coreano bene ragazzi questa la vediamo per una settimana come funziona io mi chiedo ma come è possibile con tutti i fan di tech in Italia non ci sia un coreano in chat dal giocatore più forte in Italia o comunque top 5 non lo so che ci aiuti coreani chiediamo il vostro aiuto uno uno dei miei primissimi utenti era un coreano che stava in Italia tra l'altro poi veniva anche sempre a giocare poi è sparito è sparito il periodo è sparito il periodo che per qualche mese rallentai un po' con Tekken durante il covid un sacco di gente che aveva all'inizio l'ho persa comunque Bako credo abbia ragione cioè carichi e rilascia il momento giusto sì sì ma anche prima era una roba detta un po' così era un po' un'idea capito chiaro ciao Carmine poi ci hai trovato una fidanzata vabbè priorità come dire ci sta o se no fai come me te la trovi che gioca pure lei e giocate insieme ma è pure forte la meglio allora back 3 alto antistep qui back 3 2 quindi alto antistep col sempre secondo alto probabilmente ci si potrà abbassare sul secondo o sarà jail perché jail è troppo forte finisce il hit e passa la paura sì vabbè che discorsi ma è come abbassarsi fondamentalmente concettualmente abbassarsi è troppo forte cioè però c'è nel senso se ti puoi abbassare sul secondo è troppo debole se ti jail è troppo forte ci sono quelle cose che non hanno una bellissima via di mezzo secondo me vi dirò la verità 14 frame secondo me è jail perché stiamo sempre parlando di un personaggio che ha in mano un elettrico che ti rovina quindi se gli dai la possibilità di daccare il secondo secondo me quella mossa non te la gioca nessuno però in effetti no abbiamo la variante media e che mi fa ritrattare probabilmente probabilmente no probabilmente non è jail probabilmente ti puoi abbassare sul secondo come ti puoi prendere il medio tra l'altro è una posizione del cazzo lì più 3 più 3 in quella posizione lì potrebbe quasi esserci il bassetto garantito o comunque un brutto gioco a terra eccolo il nuovo B4 Indra's Kick ecco il nuovo B4 molto simile peraltro a 4 normale questo però è medio 18 frame butta lontano molto simile a 4 normale cazzo butta lontano danno imparata danno imparata questa cosa alla scia comunque non ce l'hanno nemmeno l'indicatore quindi va bene è peggio del vecchio B4 però va bene è sempre una bella mossa il vecchio B4 è veramente forte ragazzi questo mi sembra meno forte del vecchio B4 probabilmente anche il ragazzo qui ne sta parlando perché appunto how Dave sono curioso di vederti giocare i Yachi back 1 più 2 allora heaven merciless vrat era even svrat heaven merciless vrat ha aggiunto il senza pietà non è solo una perry questa questa è una questa non è più una perry cioè no perry questa era una tipo una total reversal era una reversa che si toglievano vita entrambi anche gli Yachi si toglieva vita però si attivava oltre che attivarsi a frame molto bassi intercettava sia i pugni e i calci come le normali reversal generiche non era chickenabile cioè prima c'era la contro reversal ora l'hanno tolta in più colpiva anche ciò che non era puramente un arto cioè la testa la pancia quindi cosa che tutte le altre reversal non facevano adesso noi l'abbiamo vista in chiave di 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 sabaki o di reversal prima insomma e comunque di di contromossa l'abbiamo vista prima nel trailer adesso però l'avversario è fermo lui ha tirato e la mossa parte tardi però parte quindi di base è una mossa è una sabaki quindi probabilmente è una sabaki che magari funziona sia su pugni che su calci eh vodo ci sarà da vedere se funziona sempre anche sul corpo non lo so sarà da vedere sarà da vedere sarà da vedere i frame di attivazione tutto è ispirata è ispirata alla vecchia mossa ma è una mossa totalmente nuova basata sulle nuove meccaniche questa qua a livello di animazione ricorda il vecchio D2 il vecchio D2 che forse non ce n'è nemmeno più su Tekken 8 su Tekken 7 però ha tutt'altra mossa anche questa tra l'altro non è mi sembra alta sì alta 18 frame splatta splatta manda lontano ci sarà l'instant backroll qui da fare infatti abbiamo qui il frame tra parentesi ci sarà l'instant backroll qui da fare qui UF1 questo è il vecchio DF1 più 2 gli hanno cambiato l'input vediamo anche lo possiamo fare anche con UB1 U1 e poi c'è questa bellissima cosa tra parentesi che non sono sicuro di cosa sia Powercrush no grazie frozen va bene così non lo so non lo so secondo me non era non era congeniale la traduzione mi ha solo incasinato la testa prima sì ero lì che cercavo di capire no basta non cerchiamo UF2 1 questo è il vecchio SS2 1 allora cosa interessante tra l'altro tra l'altro ah come dice Cavos tra l'altro il primo e medio fun fact le mosse da UF hanno la grande particolarità che sono identiche se fatte da standing o da crouch infatti questa l'abbiamo vista usare mi sa come punizione nel trailer quando aveva lit attivo l'avevo utilizzata come punizione da crouch però che vedeva uno a lit attivo fanno una giagola un po' più figa tipo giocare anche questo sicuramente non è la punish ottimale perché sono engage 36 anni però con lit dash può fare robe può essere interessante c'è anche da vedere come è messo in bloc e comunque sono 19 frames tra l'altro non è nemmeno simpatica da attirare anche qui non so che c'è scritto c'è scritto tipo può andare in engage si sarà scritto va in engage e poi in hit dash non lo so sarà scritto una roba del genere sicuramente il vecchio SS 2.1 ok era un input diverso però era starter subito e faceva 90 danni quindi fondamentalmente il danno di prima era meglio meglio però fare UF 2.1 che è una cosa secca non è bisogno nel sidestep UF 3 starter e starter questa roba è storica perché stava in vantaggio un bloc sempre intorno ai più 3 poi a Tekken 7 aveva fatto che si entrava avevi una mezza juggle comunque carina 28 frame quindi comunque vabbè è una roba che si fa è una roba che si fa con avversario che esita qui però che se è una real tailspin il secondo colpo è una real tailspin quindi sarebbe innanzitutto anche da vedere poi l'effetto di questa mossa nelle juggle se se fa l'effetto real tailspin nelle juggle e qua abbiamo juggle piena cioè non è nemmeno un istante tornado perché essendo tailspin abbiamo juggle piena eh sì guarda 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 come è bellino da raccogliere lì bello guarda guarda il personaggio non è ancora uscito ma il coach credo che abbia già una staple combo in mente sì sì sono lì che ci penso sicuramente poi per esperienza ti dico appena esce il personaggio le peggio porcate le vedremo una volta uscito eh sì ma come per l'idea che avevano fatto la famosa combo da 110 danni che faceva incredibile wall carry tutti quanti ci si chiudono i primi giorni e poi saltano fuori un sacco di robette carine uf4 24 frame però antistep medio boot a terra e più 43 quindi qui c'è ff2 garantito ragazzi mi ci gioco le palle del gatto che che qui c'è ff2 garantito 43 frame 43 frame e lui così a terra quindi sono anche più di 43 frame il gatto è consapevole di quello che hai appena detto chiedo no povero gatto quindi prossima live in caso sapremo il risultato del gatto se rimarrà quello che è oppure va bene spoiler il gatto è castrato no di già vabbè insomma di già nove anni no dico già già ancora prima eh sì oddio questo è ff2 questa è la mossa che prenderà a terra è a 19 quindi se la pari allora a 19 però in realtà c'è la motion dell'ff quindi è minimo 20 20 ma 20 se sei un mostro se sei un mostro dell'ff ti esce 20 non è una mossa veloce però passa un po' sotto è bella lunga la si usa anche molto buona con l'avversario a terra chiaro quindi insomma magari uno si alza anche male e lo ritiri super aria ff3 qui tra l'altro gli hanno gli hanno risistemato l'animazione l'hanno fatta uguale al katsuya dell'attuale versione di tecno 8 katsuya inizio tecno 8 c'aveva l'ff3 con l'animazione vecchia adesso adesso invece ha questa qui questa stessa che hanno messo i yashi classico ff3 starter media safe lenta schivabile mix up medio da mix up avanti avanti 1 più 2 13 quindi con la motion dell'ff siamo a 14 ma mi sembra forte forte mi sembra forte forte come roba questa avanti avanti 1 più 2 aspetta sono tornato proprio indietro allora medio annasso secondo me fa anche danno imparata engager poi estensibile perché è un ff quindi buono da quel punto di vista c'è da vedere la situazione non blocca però io annasso annasso secondo me danno imparata danno imparata generalmente non mettono tanto le scoperture potrebbe essere una roba veramente forte questa potrebbe essere la key move del vecchio allora rivedere la faccio rivedere un'altra volta eccola è cazzo è forte di brutto è veloce è lunghetta è potente parte da 13 che è poco se ci pensi bello forte forte cf2 boys io vi devo lasciare in questo momento carissimo grazie mille della compagnia oh grazie a te ci vediamo sicuramente lunedì anzi scusami se magari t'ho fatto parla poco oggi però in effetti è c'ho il mio approccio storico ma scherzi io c'ho il blocchetto sto prendendo appunti bravo ragazzi questo è facendo il coaching gratis anche in chat prendete appunti che lunedì facciamo la storia con questo canale lunedì botte madonna ma davvero io lunedì lo uso prendo appunti da te perché comunque non so nulla è il primo Tekken lunedì maratona maratona mishma inizi da che ora più o meno indicativamente appena esce ah subito le 9 di mattina non prendo impegni vabbè non prendo impegni vado a diritto godo grazie coach chat alla prossima ciao bello ciao ciao ragazzuoli vi dovrete accontentare del sottoscritto gli engager non tutti gli engager non è una prerogativa degli engager fare danno imparata no non mi vorrei sbagliare ma a memoria non tutti gli engager fanno danno imparata qcf2 qui tra l'altro eh ma ormai l'ho già fatto qcf2 tra l'altro è un pelino più veloce quindi praticamente dovrebbe uscire da 16 dovrebbe uscire da 16 se non sbaglio e che non è per niente male diventa anche un'ottima punish perché qui 14 abbiamo il qcf quindi buono molto buono ci si può anche punire robe while running 3 va bene che il solito while running 3 e qui abbiamo danno imparata infatti infatti guardate questa scritta qui vuol dire danno imparata imparata fondamentalmente no ok torniamo su qcf2 che secondo me non l'aveva questo ce l'ha per esempio e infatti qcf2 se non ha danno imparata non ha danno imparata vabbè questa è la 10 hit bello bello e chi charge cazzo while standing 1 diventato da 13 non più 14 13 while standing 2 while standing 2 va bene solita arma da ch più 8 e normalit while standing 3 questa mi interessava da vedere avevo paura la vessola rimossa while standing 3 ma non fa un cazzo c'è da vedere come si comporta col power up sta mossa punizione da 18 non fa un cazzo butta a terra quindi sarà da vedere cosa convenerà al vecchio utilizzare quando in crouch perché a questo punto beh chi te lo fa fare devi utilizzare while standing 3 quando hai uf2 1 che fa più male e un hit engager inoltre beh a questo punto può aver senso alzarsi per esempio sulle sulle robe che hanno lo stagger tipo trotto l'anidemishima può aver senso e alzarsi e fare vgf o ff2 anche questa punish diventa un po' una merdina while standing 4 4 interessante che l'hanno messa a 0 l'hanno messa a 0 è per compensare i rialzi 4 4 degli altri cioè quello di reina è forte è forte deviljin leva un tonfo adesso perché praticamente ha l'animazione della trottola sul secondo colpo leva un tonfo è un po' in vantaggio cazzo è rimasto sfigato vabbè però c'ha un rialzo da 13 e lo l'hanno messa a 0 interessante la nuova punish da crouch fcdf2 fcdf2 no non c'è bisogno di imparare crutch cancel e vgf perché abbiamo questa e quindi che cazzo me lo mette a fare while standing 3 1 più 2 sarà merda la command list che rimane lì fondamentalmente tra l'altro questo fcdf2 è da 15 un 15 puro che alza il normalit senza fronzoli niente di che niente di che va a appiattire tutti i bellissimi discorsi schillati che ho fatto prima vabbè ci sta il vecchio non ha mai avuto un rialzo da 15 era proprio una sua caratteristica non avere rialzo da 15 vediamo il suo buon vecchio fcdf4 quindi sarà un'ottima arma da mix up buttiamo a terra buttiamo a terra sono 17 quindi un ff2 fatto bene qui dovrebbe entrarci qui tra l'altro sidestep 2 sidestep 2 avanti convertiamo in stanza tgk quella che abbiamo visto anche nel trailer ss2 poi avanti forse non c'è ss2 1 direttamente si esatto esatto pyrex va in godstep ok abbiamo sempre la vecchia variante col saltello carina thunder godfist e io vedo una cosa qui electric thunder godfist probabilmente non è vero ragazzi che l'omen non c'è più secondo me è scritto in questa riga mi sembrava strano non lo mettessero c'è c'è di sicuro semplicemente non fa input a parte nel command list è considerato un miglioramento di questa mossa ma c'era per forza troppo iconico però iconica quella cosa eccolo qui tra l'altro c'è eccolo chi è che diceva che non c'era eccolo qua tra l'altro qui c'è scritto qualcosa allora perché sembra quasi che lo si possa fare in due modi a questo punto sembra che si possa fare nella versione quella diciamo cd normale e probabilmente versione storica quella fndf no non credo sia semplificato credo semplicemente possa venire in entrambi i modi probabilmente nella versione fndf nella versione fndf probabilmente viene più veloce però non so cosa vuol dire questa cosa qui nel mezzo questa cosa qui nel mezzo mi confonde no non sta lanciando in effetti non sta lanciando c'è da dire una cosa però la persona che sta provando questi input non so se perché sta provando soltanto le cose qui delle cose dirette le prime cose che appaiono in riga non vorrei a questo punto che la versione fatta stile vgf di yashi faccia l'effetto magari prenda anche a terra e tutto ma non lanci e magari quest'altra versione quella la versione più simile a quella storica non so cosa vuol dire sta roba nel mezzo però purtroppo non so se è un più e quindi niente di niente di fondamentale o se vuol dire altro magari la versione quella perfetta fatta f neutro di f magari allora alza non è non è non è versione chicco comunque questo qua è semplicemente la versione fatta col giù in più che paradossalmente torna più comodo questo forse lo vedremo lunedì a questo punto si baco ma vedi cos'è che perché me lo mette qui ok perché qui non me lo mette allora anche qui i due tasti devono essere premuti insieme non c'è scritto da nessuna parte da nessun'altra parte che diagonale e tasto deve essere premuta insieme no però è una prerogativa del gioco perché qui me lo metti con il più allora vuol dire che è una regola extra magari vuol dire che anziché perché te normalmente quando fai df mossa hai un buffer intorno a 5 frame a meno che questa non sia uno di quei just frame alla poca in tournament che premi tasto più mossa lo devi veramente premere contemporaneamente in un margine ed un frame se questo vuol dire insieme allora vorrebbe dire questa cosa qui quindi un just frame ulteriore sarebbe da rivedere a questo punto gli vgf in lingua nostra se hanno cose del genere o no ma non mi ricordavo di cose particolari perché tra l'altro forse non vuol dire f n di f sta cosa forse vuol dire semplicemente che ti sta dicendo che questi devono essere contemporanei no dovrei rivederlo in lingua nostra se c'è questa se c'è questa aggiunta vediamo oddio che gli è uscito vediamo qua in godfist vediamolo meglio mi si sbaglio ho fatto un'animazione più grossa momento momento no va troppo avanti volevo rivedere l'elettrico da solo ah ma perché questo non era elettrico banalmente ok e questo è elettrico no è semplicemente il primo che non era elettrico tecnotto ha un botto di lucine ok niente niente di che cd3 cd cddf3 ecco ecco vedi per dire qui mantieni premuto se lo fa vedere col colore trotto licchero trottola 1 2 3 va bene tutte trottole basse come storico trotto trottola 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 1 storico trottola 3 questa nuova variante nuova variante carina carina ma probabilmente anche per portare a muro sembra nice n44 che fa il vecchio rialzo 44 buon danno ok anche qui come vedete spinning demon rialzo 44 giù si converte in vg instance vgk questa è la stance la tgk l'altra quella che un tempo aveva autoperry la rivediamo qui perché adesso ci farà vedere le mosse warrior instinct warrior instinct probabilmente è il nome del power up probabilmente non è la stance in sé che gli dà il power up allora probabilmente è il probabilmente sono certe mosse che lo fanno abbiamo sta mosse è tutta da vedere un bloc è tutta da vedere un bloc qui non ho ancora visto il power up salire ma sicuramente sicuramente questa è la mossa power up anche qui warrior instinct ah no ma è sempre la stessa mossa scusate qui infatti non vediamo la scritta warrior instinct questo è l'alto che gli abbiamo visto fare spezza guardia qui in realtà questa scritta vuol dire tipo solo danno imparata chip damage vuol dire fa male malissimo probabilmente di per sé non potenzia sarà da vedere la fattibilità un po' di questi power up anche anche qui questo è l'equivalente di d3 anche qui abbiamo danno imparata e non parla di questo warrior instinct allora qui tgk4 df4 4 quindi praticamente facendo stance 4 converte e va trottola remix up pure parecchio forte la presa che abbiamo visto prima la vecchia presa qcf1 vediamo i danni sono 30 danni non so cosa vuol dire questo ma potrebbe essere che la presa non si schippa ci sta che la presa non si possa schippare di 1 più 2 questa è l'altra l'altra stance quella che abbiamo che abbiamo disponibile anche da 1 o 2 le altre varianti 1 quindi da 12 colpo alto 1 1 quindi alto da 12 secondo palesemente garantito che manda in engage che manda in engage ok quindi una variante veloce praticamente dalla stance che manda in engage la sua variante media che butta a terra che è uguale al vecchio df1 2 un po' un po' ibridano cose di gameplay insieme alle richieste delle richieste un po' dei fan storici che stance vgk2 sembra molto un vgf medio questo sembra un po' le vgf del tekken tag 1 no? che era tipo special mid su vgf eccolo qua sì bello bello verticale l'hanno imparata sicuramente da 15 come quello di kuma kuma da chi aveva imparato l'arte del tekken diventa dalla stance un medio da mix up perché è medio forte anche abbiamo che danno imparata magari sarà anche in vantaggio 3 4 e questo è l'equivalente di vf3 4 niente di più niente di meno stance vgk4 questo è l'equivalente del pestone che però lo fa totalmente in standing e manda solo a meno 4 considerando guardate quanta vita quanta vita se n'è partita considerando l'energia che se n'è partita beh beh mica male su 20 danni 20 danni per un basso secco non è male però c'è il disco che lo fa da stance quindi bisogna vedere come riesce a cucinarsi la situazione 1 più 2 1 più 2 una bomba a mano sta mossa è antistep wall splat power crash buttatella comunque si 25 danni situazione senza muri niente di che però non so che c'è scritto qua potrebbe essere una di quelle robe che si potenzia con la stack o il power up da vedere ancora presa armory nitto mi pare sia guard break ma cazzo un antistep così no mi sa che l'altra mossa quella questa è media è l'alto che gli abbiamo visto fare guard break secondo me questo non è guard break non so mi sembra beh più che altro è una roba poi diventa troppo forte poi da 18 non è così lenta è l'alto che è il guard break questo non è guard break ma probabilmente è vero come dice kit la scritta probabilmente si potenzia se serve gli attacchi come tutte le power crash in effetti troppo coreano mi confonde questa vecchia presa riciclata anche questa anche questa senza skip 15 danni più 7 più 7 quindi poi c'è da fare mix up dopo buono buono però alla fine ci sta ok allora può convertire quindi c'è se in it guardate guardate che ha fatto grazie mille bas droppino grazie mille salve salvino bas droppino guardate qualche ha fatto allora va bene va in questa stanza che la vgk fa la presa e la presa entra sfrutta una stacca e mezzo di it per convertire nell'altra stanza probabilmente mantenendo anche un vantaggio dignitoso facendo un casino di elettricità all'enel non sarà non so se sarà o sarà felice e ora farà quindi sfrutta l'occasione per fare cose dovrei capire se il più 8 si riferisce a una situazione generica di quella presa che entra credo di no a questo punto o se si riferisce al vantaggio che ha nel momento in cui entra in stanza perché la presa abbiamo visto a più 7 quindi non dovrebbe avere più 8 infatti è più 7 diventa più 8 nel momento in cui entra in stanza quindi probabilmente il vantaggio rimane anzi il vantaggio è anche bello alto probabilmente in questo caso può fare cose può fare cose quindi può utilizzare le sue varie e può usare le sue varie opzioni da 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 stanza con un vantaggio quindi ci partecipato praticamente 50 50 o similare dalla stanza vgk stile qui stile reina in stanza fa df cancella e passa a wind godstep quindi potenzialmente può anche fare la roba che normalmente fa da wind godstep ecco ok ok allora a naso questa questa questo è il power up secondo me ci dice che può avere fino a tre power up quindi molto stile lydia probabilmente il power up stesso è collegato a un ulteriore stance quindi stile lydia probabilmente e prendetemi con le molle perché non ci sto a capire un cazzo dato che cazzo questa cosa 1 più 4 cos'è una cosa che si sblocca che si sblocca col power up probabilmente è una roba che si sblocca col power up tra l'altro mi sembra che lui stia parando mi sembra che lui stia parando mi sembra che lui stia parando gli ha fatto danno un guardia e si prende un vantaggio di 21 bambini chissà cosa combina normal it sei sicuro baco che li consuma perché power up è sempre qua e lo vedo sempre acceso fate anche lui lo sta indicando c'è numero 3 che non ho visto allora vediamolo meglio ah ok si questa cosa è vero probabilmente il numerino 3 è un casino così in effetti analizza la roba si è vero probabilmente era un numerino 3 probabilmente era un numerino 3 magari ne usa due cioè quelle di Lidia quelle di Lidia sono so 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 allora va bene non è esattamente è un po' una via di mezzo tra quelle tra quelle dei tra i power up normali e quelle di Lidia si la grafica è uguale in effetti si se si molto simile però gli è rimasto qualcosa forse ne consuma due perché comunque gli è rimasta la barra illuminata eh forse ha rimasto uno quindi a questo punto poi magari tutte le stesse cose poi questa settimana hanno cambiato tutto ovviamente tanto è inutile che metto la voce sua perché parla in coreano non ci capisco niente ok boh gal dove c'è qualcosa in programma warrior instinct 112 a ok ok abbiamo altre robe super potenziate quindi 112 diventa una roba che butta lontanissimo è a 31 danni not bad non ho visto niente caldo e se c'è un talk tra 20 minuti me lo seguo volentieri sti cazzi di set reset nel senso non vedo power up qui ragazzi parla solo di warrior instinct probabilmente è programmato su youtube ok perché prima non c'era niente l'ha messo quindi quando eravamo già live l'hanno già messo quando eravamo già live no se c'è il talk allora ce lo seguiamo insieme ragazzi secondo me questa roba non consuma non consuma perché non vedo numerini prima e non ne vedo dopo quindi probabilmente ha uno stack di potenziamento e uno stack rimane 1b22 mamma mia mamma mia che potenza sta cosa 1b22 tra l'altro guardate c'è l'iconcino arancione del della zera barra bianca qui come avevamo detto prima in combo quando l'abbiamo vista nel trailer qui non ha affatto comunque l'effetto grafico dell'azzeramento della barra bianca probabilmente è una cosa che funziona solo in combo e perché me la metti qui 1 più 2 quindi si collegato al power up credo indipendentemente dagli stack df2.1 e questo era il twin piston che avevamo visto nel trailer non era df1.2 quindi anche qui collegato al power up combo danno imparata è figo veder tornare in chiave nuova roba vecchia vecchia così perché questo fondamentalmente è il twin piston di Tekken 5 ah ma cosa ha fatto Mattia Matti 2 allora anche qui non abbiamo visto il consumo di stack abbiamo visto grandi esplosioni c'è scritto danno imparata io la butto lì magari con il power up ff2 diventa safe cosa ho visto magari ff2 diventa safe che fa pure chip damage tipo è diventa un moba praticamente i yashi con Tekken stai li farmi farmi e poi riscuoti ff3 che qui abbiamo danno imparata onesto ff3 boh quanto li cambierà hai danno imparata ok boh magari c'è avvantaggio un bloc intanto safe era già safe non credo diventa tracking avrà avvantaggio un blocco magari immaginate ff3 più 4 più 5 un blocco che nei vecchi Tekken funzionava così in effetti lo lancia forse un pelino più in alto ma non credo che incida molto forse un pochino sulla jungle c'entra qualcosa in più ma non mi è sembrato qualcosa di fondamentale trottolone e qui abbiamo sicuramente la variante la variante col power up che c'è la variante insomma il primo colpo non staggra e continua che anche qui sono un po' vibes da vecchi Tekken ebbè ebbè cioè praticamente col power up questo personaggio diventa un mostro invincibile diventa mix up gratis allora quindi qui stands più power up quindi stands TGK quindi quella dell'auto pair quella dell'auto pair di Tekken 7 più il power up l'uno diventa sta cosa sarà da vedere poi un blocco e tutto e VGF VGF instant tornado peraltro mi la vedo così non è che poi mi sembri tutto sto tutto sto gran power up probabilmente ci fa vedere tutte le mosse da stands col power up magari lavano un pelino di più non ho visto quanto levava prima e non voglio tornare indietro e qui siamo alle prese qui siamo alle prese prese base infatti ci siamo non vedi più un cazzo non vedi più un cazzo se quando c'è il power up esatto se non lo so con gli effetti quelli particellari alti direttamente lo schermo esplode ma secondo me è pensata così non mi ricordo se non so se qualcuno di voi ha mai giocato a Final Fantasy X e è stato mai battuto da da The Richter che praticamente quando ti fa un attacco era una roba tipo l'ho giocato vent'anni fa non mi ricordo dopo un'ora che c'ero dietro fece un attacco una roba tipo fine del mondo tutto lo schermo diventava bianco non c'era più un cazzo e hai perso punte base così e gli acci praticamente quando hai il power up a un certo punto comincia a colorare il suo schermo non ti interessa cosa c'è dietro perché tanto il mondo è finito a quel punto non puoi fare un cazzo e probabilmente l'idea era quella la presa la presa che spazia è diventata UF 1 più 2 oddio oddio gli hanno gli hanno messo anche questa variante come presa fattibile un po' lontano interessante la vecchia reversal in realtà è sempre presente la vecchia la vecchia reversal è sempre presente praticamente è integrata nella stance è integrata nella stance adesso probabilmente solo zenith system è integrata nella stance perché ha attivato l'hit apposta qui quindi molto stile reina questo molto stile reina quando va quando va nella sua stance even sbrat fa fondamentalmente la stessa cosa qui proprio anzi usa usa proprio la stance a modo reversal usa proprio la stance a modo reversal molto 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 figo 10 minuti e ci andiamo a vedere il tolke vabbè l'uperry ok d4 a terra ok non ce l'aveva fatto vedere ufp2.1 vabbè che ha l'hit dash lo sappiamo che cazzo è hai ragione bacco è vero fa in hit fa danno parata diceva sì eh vabbè questa è l'hit smash dopo un po' dopo un po' sulle tre ore che sono qui dopo un po' mincio a svalvolare era la prima mossa era giusto che facesse danno parata eccolo qua elettrici questa hitmove uf4.1 ah ce l'ha uf4.1 e ce l'ha anche con d4.2 quindi stile reina sempre ed è in vantaggio no non era d4.1 era d3.2 che ci ha fatto vedere adesso infatti quindi forte anche poi per prendere a terra ma utilizzabilissimo anche con avversario in piedi si è bruciato tanto hit però sta guardate che fetta di chip damage con due colpi si è preso quell'altro guardate c'è un quinto di barra di chip damage cioè che cazzo avevo questa l'abbiamo vista l'auto per l'auto reversal mi voglio instinct pieno l'abbiamo visto vdff3 mi è sembrato un furmine a cer sereno visto da qui si rimbarsa anche un po' più in alto si allora non mi è chiaro come carichi lo stack per il power up no nemmeno io ho visto una mossa che probabilmente glielo carica nel trailer sembravano le stance stesse andrà visto meglio se sono qual è l'uno qual è l'altro se sono entrambi se ci sono altre cose che non abbiamo visto no allora io più che altro del power up credo una cosa importante credo ho un'intuizione allora secondo me nel suo avere sistema ibrido può caricare fino a tre stack e le stack extra le può consumare ma probabilmente il power up gli rimane magari per il round non per il match intero ma probabilmente il power up singolo gli rimane sempre secondo me non lo può consumare non è fatto che il power up singolo non lo possa consumare non può fare la roba quella più sgrava senza le stack extra ma secondo me il power up singolo gli rimane sempre si ma hai visto che una gli era rimasta baco secondo me una stack gli rimane sempre si è fatta per rimanergli sempre cioè sono curioso di vedere cosa succede se ha due stack e prova a fare quella roba probabilmente non gli parte però cioè nel senso è fatto in modo che non c'è niente che ti consumi l'ultima barra questo intendo mi è sembrato velocissimo questa f3 ha buttato molto in aria di f2 1 chi sta tra l'altro usando tutte le mosse da power up niente li consuma la barra lit gliene da 1 ah guardate una cosa interessante me ne sono accorti adesso guardate lit adesso lui ha attivato lit gli ha dato una stack e il pugno non è dorato e il pugno non è dorato invece prima quando quando ha usato la cosa che gli fa consumare che gli fa consumare le stack del power up però il pugno è rimasto dorato quindi probabilmente probabilmente deve attivare le stack per per attivare cioè deve accumulare le stack per attivarlo tutto il power up poi le stack rimangono le stack rimangono che le può consumare col mossone e il power up probabilmente diventa indipendente però non lo attiva già con una stack come magari fanno lì come magari fatti con lì secondo me guardate come è fatto qua e qua teoricamente l'ha già consumato ha consumato comunque il mossone ha fatto lalalalalala ha fatto la possiamo chiamare ultimate in effetti Mishima sta l'ultimate technique a questo punto mi viene a dire che l'icona si colora man mano che prendi il stack poi puoi entrare in ultimate warrior e lì potenzi le mosse sì credo proprio di sì credo che i numerini da soli non facciano un cazzo hai bisogno di riempire per attivare effettivamente il power up poi i numerini ti servono per fare la ultimate li consumi per fare la ultimate che ne farai una sola e il power up si rimane secondo me è fatto così che sarebbe un sistema di power up ancora diverso se ci pensate rispetto a quelli preesistenti qui poi stavo usando tutto non consuma niente non lo so secondo me ci sta facendo vedere apposta tutte queste mosse messe insieme per riguardare le faccio una e la non consumo qui infatti it attiva va va uno c'è scritto l'uno qui dietro e il pugno non si colora probabilmente non è ancora non è ancora in power up anche le engager stesso discorso anche qui va uno ci sta anche bisogna vedere anche se la cosa dura per tutto il round o per tutto il match a questo punto tutto il round come personaggio normale tutto il match come Lydia e che qui tutti sia gli engage che il burst vanno a uno e quindi magari uno ha bisogno di una lista di cose da fare per andare in power up o magari solo l'entrata in it ti dà il power up in realtà quello che abbiamo visto prima in effetti ora che ci penso non abbiamo visto effetti particolari magari magari il punto è quello magari ogni round farm farm stack con l'it esatto solo dal terzo round in poi solo dal terzo round in poi gli rimane il power up attivo certo a quel punto magari uno si trova 0-2 e può partire il cambeccone è tipo la nuova trovata per il cambecc stai sotto di 2 stai sotto di 2 poi per 3 round di fila sei un pazzo sgravo in culo potrebbe essere così perché in effetti guardandola bene questo effetto non l'ha fatto prima con stance 1 che sembrava l'avesse caricato no? eh sim ma se l'unica cosa che stacca è l'it te lo puoi attuare una round ci sarebbe da vedere l'it dash però però non mi è sembrato quando l'ha usato che staccasse sapete è scritto sulla mossa grazie chesil grazie ottimo se me la sai tradur perché prima avevamo con frozen provato a 3 non ci avevo capito un cazzo se sai fare di meglio molto bene se abbia sbloccato se rimane la carica eh ho capito però se ha bisogno di fare 3 volte l'it per farsi la carica gli deve rimanere se no non può non può come posso dire non può attivarsela e potrebbe anche essere che quando usa l'ultimate il round dopo resetta tutto le cose sono tutto è possibile